Eccoci e bentornati sul mio canale! Riprendiamo con la mia serie dedicata all'apertura dei sappli drop cioè dei lanci e dei rifornimenti che possiamo prendere e sbloccare durante le partite multiplayer di Call of Duty Advanced Warfare Nell'ultimo video veramente uno schifo assoluto perché non abbiamo trovato praticamente nulla solamente indumenti uno peggio dell'altro e un approvvigionamento orbitale andiamo subito ad aprire i nuovi tre pacchi siete pronti? 1, 2, 3, partiamo dal 2, vai, 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 vai ex leader, tac 19, runner, vabbè, tac 19, runner pantaloni marine recluta, che cacchio, il tac 19, ok, vabbè, dai andiamo con il primo, dai, 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 rinforzo, pantaloni P-Tec P-Tec Savvy, automatica riduce pressione di rinculo, precisione di 11, praticità 4 mamma mia, praticità 4, ricarica un po' di più, rinforzo, stai aggiunti 45 minuti al tempo totale pantaloni, pantaloni, dai, un po', dai, un po', apri, apri, apri S-12 Vengeance, vabbè, dai, non male precisione di 6, praticità di 12, vabbè, dai, questa volta finalmente abbiamo trovato qualche armetta interessante, soprattutto qualche versione professionista che sinceramente non mi dispiace S-12 e il P-Tec, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di queste nuove armi e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook e ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale